Buonasera, sono Roberto Paoloni, il sindaco di Belforte del Chienti. A causa del stisma siamo stati costretti a chiudere le scuole. Inoltre informiamo la cittadinanza che abbiamo aperto... Sono Romano Carancini, sono il sindaco di Macerata. Comunico ai miei cittadini che a causa del stisma abbiamo affrontato una serie di misure, tra le quali l'apertura del palazzo... Buonasera, sono il sindaco di Treia, Franco Caponi. Questa è una telefonata di emergenza per comunicare a tutte le famiglie... Abbiamo aperto la palestra comunale per poter assistere i cittadini che volessero avere... Tutti, vi raccomando... Noi siamo a disposizione... Grazie per la collaborazione.